lì parte dicendo da live non c'è l'altro ah dal vivo dal vivo ce l'abbiamo fatta forse con un nuovo programma sì e ce l'abbiamo fatta c'è già una la un like cazzo entrato a mettere un like uscito video basso non me lo credo uscito il video basso questo è l'obs welcome to the obs con la cico della ragazzi quando invece come state non so se state vedendo la live potete con l'obs devo poi mettermi a settarlo tutto bene perché veramente 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 inguardabile ora vediamo se parte di qui con il nuovo supporto ed è partito ed è partito perfetto eccoci nuovo credo io si prova audio prova supporto ed è partito eccoci ci siamo non ci siamo ci potremmo essere ma me che me ne vutte ma me che me ne vutte quindi ancora offline chicos no me lo creo dai ok 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 questa mattina abbiamo provato a fare una live mattutina per vedere effettivamente anche se ci sono per esempio italiani italiani disponibili a giocare o meno non si sa lo vedremo non mi aspettavo due ciao loli lloli eccolo l losi locali quel ok lo stavo preparate non c'è nessuno online logicamente questa è una prova questo si chiama affronto ostras che locura la cosa bella è che ci sono 5 like e siamo 3 persone va bene grazie grazie Cicos ci hanno chiuso non posso parlare più tanto ci hanno chiuso in base guarda com'è la cosa ok me l'ho sfrattato è sveglia in casa vuoi guarda tu? si una partitellina riscaldante oh avevamo giocato in 3 mi sa no no? ha giocato? quindi quando gli da uno splat ma non da i numeri può essere che sono ha avuto un collegamento all'ultima ora vai nello spogliatoio e cambia subito l'arma vale vado a completare questo metto questa questa a vedere bene quanto costa la switch così guarda quanto mi manca quanto ti manca? quanto manca? black si yeah black welcome mira claus e black si vanno solo 99 livelli si si è in livello si è in livello wolf wolf ma chi vuoi dire che è? beh sono tutti tedeschi un po' si è caído lo stream e tu muovi? vale ma forse meno di 100 ma alla fine quale vuoi prendere? non ce la fai con le mani se non ce la fai con le mani falla con i piedi e ricordate il nostro motto se non lo scrive Loli non è essere il nostro motto è verrà andrà se non ci riesci se non vuoi farcela con le mani scrivilo Loli venga se stream che falta uno madre mia ma la maniana è veramente chiaro è la maniana è ma in nadie sono rose verdi ok ok ma mi sono preoccupata non ci riesce a perdere un Yoko sinceramente no perchè ma game lo dice un po' no ma io credo che il problema d'aquì è che se va a caer la visual boh può essere Splatokun a questo punto non so non so con la otra arma non mi ha pasado te lo digo per questo cambiavo arma entre altri è uno allora ti ha servito niente credo che al final lo aprendi a usare perché se ti spari un po' come salto perché sai che ti va a bajar e ya sta dove era ben ci sono degli Splatfest in vista non lo so è uno al mese no? ah ma noi ultimamente non è che siamo super motivati per gli Splatfest no io mi sa che non ne farò più Splatfest lo sai dalla prossima li boicotto totalmente se continuano questi cazzi di argomenti stupidi proprio da da mongoli supremi ben ma ben sta sempre lì ma baffa il culo va ben tu le tue valle eh perdono bravo discord hai scherzo cosa hai detto? perdono per non parlare per discord è che me lo disinstallai per avere spazio però ora disinstallare il gioco che tenia e mi da penne di volvere a mettere il discord non ho capito come si usa discord no eh Loli in poche parole non ho capito come si usa discord e se solitario perché guarda perché guarda che se non voti non puoi giocare normalmente eh vabbè non giocherò normalmente giocherò solo con gli amici sai non puoi giocare in privata tanto si in privata sì oh no stai fuori lo so lo so non c'è problema para non morir para non morirte chica lascia anche a casa chiaro perché lo voto in te trasporta tio 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 eh chiasi tio 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 pio la live della maniana credo che non vamos a superarlo lo cinque seguidores ciu pa ciu pa ciu pa ciu pa non è morto no e quindi e quindi però occupa tanto discord no loli non ha apprendito a usarlo e perché non mi pide doc come si usa discord e io glielo lo insegno esto non comprendo vamos para l'ultima perrito boom me da pereza a ir a buscare la switch vale modo pereza l'ho lì l'ho lì sta più attivo quando sono black black il nostro black ah gente dovresti accendermi la ciabatta sai si perché mi son dato conto yeah blum blum tisana 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 hello tisana my friends hi ma c'è no è quello che ti ha detto che si era scollegato un ora fa ti ricordi adesso non l'ho visto ah ok magari hanno smesso di giocare eccolo qui tisana ah ah tisana we were asking ourselves tisana coco coco is also happy yeah tisana eh eh l'ho che no chi era l'ho che di qualcuno ha scritto la live della tisana nella reaction ah sì ah ah è vero tisana tisana si vila ah ah oi alò alò non so eh coco si c'è hallo buf haces successo hai alguien hallo ya loli te están dando sueño a a m como mañana de por la mañana y que haces despierto a scuola no es escuela lo dice ah y vale que estoy enfermo y no puedo ir al cole hasta lunes tal vez later cuore tal vez vale nosotros también que estamos muy bien yo me estoy levantando cada dos por tres para irme a sonar la nariz para no molestar demasiado pero ouch hay virus por aquí por Barcelona virus virus el plural de virus 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 no virus mira lo miro no blake estaba squitbaggándome in aire no no vente conmigo urbano 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 que guay el nombre urbano hola hola bella milo holo baila con milo che guay a rivederti guay in spagnolo è bello ah non vuol dire i guay perché sicuramente monta 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 ah che guay no che guay ah che ora casino no bufu c'era troppo bufu black bufu e bravo lì devi stare eramo coscienti eh milo un saluto a tutti i compagni di milo milo è scarso dovete saperlo tutti eh my japanese personal japanese friend vai fai un partitino tu personal japanese friend certo hai sempre con il pennello certo non so se ci sente milo anche se è in scuola però tranquillo abbraccio a stai tranquillo virgola mia persona io gioco adesso perché devo andare a lavorare e non ci sarò proprio questo pomeriggio come procede la tua Europa tiene Splatfest? no sapunda Loli adesso non a לפoni si promised è altamente anche la tua ora è il europeo non c'è evidenza non c'è ma anche per le R, quello che gli europei e gli americani facciano in tempi diversi. una monta una monta una monta claro Loli tenemos que saludar todos wow ha saluto una guerra divertida ah bueno muchos splatos io me splato tu te splata e splatamonos e si e per dire splatiamoci non si dice si fa blake play no stop pensiamo lo stesso ma abbiamo un egody più 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 è vero è più 9 penso ha anche una star ma non lo so non lo so non lo so non lo ricordo oh blake sta cuocando ora si che vuoi buscare la switch eh milo 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 lo faremo credimi adesso che già poi smette di lavorare avremmo anche molto più tempo noi hai già annunciato? no lo sei annunciato adesso no? in italiano ah si quindi boh abbiamo più tempo adesso dico guardate ragazzi che sono smetto di lavorare per non avere tanto sonno la notte e poter giocare vaffanculo blake hai ammazzato blake prima anche ma sempre molto senta senta fai così ah è tardi sempre tanto lui ti vede e faccio ah questo si deve saltare per farlo no? è sempre mutus platus con blake non ci riesco a cocchino tangrillo che è successo amore? cocco è caduto dalla gabbia che c'è cocchino? si 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 ti sanno we do we do it with friend we do it yeah yeah uuuu black again e neanche l'ha visto il messaggio ma e l'ho i non sono qua perchè sono faiati qui? chi sera? vicen è che in Valencia ecco l'ho asciiodo ciò che ti dice E' molto bello vicenn non ti preoccupi per niente lo know che sei un grande fan di faiati ciao milo si ci vediamo presto presto dai dai schiacciate ciao milo e qua c'è un altro ma questo vuoi dire che black questo vuoi vedere che black questa persona qua vediamo gioca tu già si e non tengo colegio e faccio solo fiesta tutto il giorno questo si che non lo sabia che us davan fiesta perché teniai faias che grandi oh no saco saco e quindi se questo è saco oi è questo non era planata però che se è saco e è black io non lo so Preguntale? Eh, ma... Allora... Per esempio... Ujjj! Questo è stato buono! Un buon spazio di una persona chiamata Gwich? Niente colorato! Non si scema! Io? Allora... Oh mio dio! Bomba cañolino por si acaso! Oh! No more ink! Te hai comprado il Kirby, Vicent? Se tu sei... E che? Che ci dici? Come è? Black... Perché veramente a questo punto non so se il Sakurais è... Dico di Black! Perché sta molte volte quando... Ah! Non lo so! Adesso non è giocato! Eh! Ma il Kirby... Loli! Eh! Vicent lo sape che il Kirby è un gioco... Donde... Non tiene... Ni ora... Ni ora... Ni nada! È un platform... Che ho comprato e ho giocato dopo un mese! È finito l'inchiostro! Si! Ma è andato indietro, indietro, indietro! È diventata l'argo È uscosa! È un gioco! Con un gioco il pensiero con un personaggio che mirovo costruisco! È un gioco il gioco, ma è abdite! Un gorgio che c'era a me ispirarello che aveva lottociato! Meg! grazie mille grazie non è che siamo obsesati ma quando vediamo un numero così alto per noi è bello ma non abbiamo fatto non abbiamo fatto non abbiamo fatto ma io non ero tu non ero io non ero anche qui ok, ho capito non è possibile sono Granny Jess Bisene nella live di ayer abbiamo fatto 30 like incoming roller è stato me spaventando Tissan sai stiamo cambiando il controllo tra l'altro e funzioni? 1 ora è 10 wow 2 ore e 10 30 like bene bene thank you thank you sì abbiamo due sì non lo so ma a volte è più pratico perché qualcuno può seguire un po' il stream e poi quando ci sono meno persone quando ci sono tantissime è quando turniamo si e ti hai fatto una stanza io ho faccio la sala e altre persone lo per entrare la sala se supone se supone che dopo l'update 3.0.0 ora non saldranno l'armi ora non saldranno l'armi in un mes dal principio dell'altro mes tutte tutte oh non mi piace no mi piace i nostri vieni l'armi sempre vieni la l'armi è davvero Viernes rebelde non c'è nulla che aspettare per il Viernes Oye, è Viernes Viernes rebelde Viernes rebelde Per me non è molto rebelde oggi Black, why you kill me? Black La storia di Kirby le encanta a Vicent Tizan, è vero La maggior parte la persona che commenta sul gioco è la persona che gioca ma per che ti capisci meglio ci vedremo solo chi gioca ogni volta, ok? Now è Doc Black mi ha giocato Black mi ha giocato tre volte Penso che Black è un numero Guarda La mia prima partita è davvero uggio Questa La 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 Mira, mira, mira questo hijo di frutti Viernes de bendicione Per per la arma Per il arma o che? no tisana ho un problema quando inizio a giocare ho bisogno di 3-4 match per warm my finger veramente questo è il mio primo match e ho con un cigarro in mia hand non è così concentrato no 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 ma mi piace il gioco quindi se vincere se perdere non è un problema per me proprio solo per le color ho già amato il gioco in mio caso ma sono una ragazza che lo conosco un giletto ok no octobrush weapon quale è? octobrush weapon brush pennello pennello octo no è un altro non è un altro non è un altro non è un altro spettare con il pincel a chi si volano no no no? e il primo gioco... Ok, ok, grazie Tisan, non conosciamo il nome in inglese, in italiano è Tinturucchio Tinturicchio Ah, Tinturicchio, sorry! È davvero diverso Cocco fa un suono strano Especialmente un suono strano, che non abbiamo mai ascoltato Ehm, change weapon Ma tanto sono scabba, le prime partite sono sempre di merda che faccio I can't try to... no, 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 no I have to warm my finger Sì, però non mi piace che salgono tutte tutte dopo un month Bueno, avrà che adattarsi alla situazione Ora sarà un mes di benedizione Claro, non l'abbia leggato Sì, io credo che lo che fa è che ti metti un po' più le gani di provare tutte queste armi Perché provate due e ti molano E le altre due le ignorano Però ti ha un mes e le puoi provare tutte Però per alcuna razone lo avranno fatto così Certo Igual è per... per vedere, no? Per che noi incontriamo Entre noi Con 4 armi differenti A le quali possiamo affrontare Perché sì che è vero che saliendo Un'arma... 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 Lo fanno molto bene Los creadores di Splatoon Piensano molto in noi Sempre sui modus platus No Era a parlare di riuscire il switch Ho riuscire Come hai fatto il controller? Tanto facilmente Come hai fatto il controller? Cosa? Apreta adesso del riposo Wow Venti, è troppo casino c'era lì Wow Ma hai visto il black? Che cos'ha? Guarda, guarda come si è passato Ah Madre di Dio Adesso andiamo a cercare la parola Casino Come in inglese Penso che è una messa Ho una veramente, veramente, veramente fatta fluo, ragazzi Quindi la mia voce suona come una voce mensa A transexual Si suona davvero male Sono davvero male Sono davvero male davvero male davvero male È davvero... Oh 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 So Sono tutti qua solo Ma io gioco con una... Io credo che lo haranno per che Splatoon si acabe antes Loli, per se no cambia nada che saquen 4 in un mes o 4 cada semana La zona non va a acabar antes Questo suona è normale per me Vedi? Dicono che è la stessa voce Si, dice No, no, non posso parlare perché... Mi voce... Mi sento che il mio cuore è seco davvero, davvero, davvero rapido quando parlo Mi sento che mi sento a cuore tutto il tempo, sai? Ma per ora funziona bene Ah, sì? Mira Esa sì Mi intento di respirar por la nariz аются Katar because in.... in cátaro Ecco Mira la нужna E' forte Tu che tiensi anche l'olio incostipato Uia Non ha sido il Mutus Platus Chiatsko Ah non è che solo dispara E che anche fa il raio sotto Ah perché vuoi che è così bello Quindi potresti ammazzare con quello anche Sì però se stai sopra 31 a 35 Fai uno Ah ora si chiede a tre Ma chi sta Chi sta giocando Nessuno? Solo Black Play with me Black Eh for Tisana It may be really early in the morning Or early at night No it's the night It's night It's late night No? I think It's six Sorry guys Tisana But in your city It's five o'clock in the morning Yeah because last night It was late at night We got confused with so many hours of all the people Chocladis Oh dude Non lo so Yeah No pensavo che era posto Hello Chocladis Hey Chocladis From Sweden Hi Ah 7 p.m Yeah because he had seven years after Yeah 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 I understand because you were thinking five but neither of us know the way around Sure We have just twelve o'clock in the well how do you say it? It's midday no? P.m How do you say midday no? Midday no? Now? Yeah a p.m Exactly we have the same time than Chocladis But wait Chocladis should be at the same time At the same time The same hour of us Yeah The same Zone It should be lunch for us but you know in Spain this is where we live People have a tendency to eat really really late So when they hear twelve it's more breakfast than lunch In summer people sometimes eat at four o'clock in the evening Four o'clock yeah Because it's too hot to eat before Eccolo tisán Six star A ver que decía Loli es que yo había contado las armas que iban a salir el cual sería la última en salir en que mes y pues el resultado ha sido el 27 o 26 de julio Quiero ser tu fortaleza Quiero ser tu fortaleza Aspetta perché tanto capirà il mio stile Sì sì Secondo me Perché io le ho porto tutto sempre dall'italiano E quindi hai scritto Yigodi no? No E qui si fa il casino Loli Lola Lola Ma es que no es chino Loli Ma Loli tiene mi handicap E' che sono tutto chino Orientale E' che sono tutto chino 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 In la tua lingua In la nostra 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 lingua Dì ok ok Tisán Non ti preoccupi. Quindi, lontano in maniera? Cosa significa lontano in maniera? Beh... Oh! Hanno pensato lo stesso, eh, Loli? Hanno pensato lo stesso fino al punto di traduzire il suo nome. No sappiamo se è. Ma non è? Si ha detto che ha scritto il nome delante? Preguntale direttamente, tio. ... Evan, per dire… Come faccio pure... Uno, uno, non moccano! Siiii. Siiii. Ok. Ok. Kirby è sono! Ma un pochino qui doveva provarlo viaهم Sì, sì, è vero Tizan. Sì, davvero tardi. Allora, Jay devi giocare tu. Sì, per sicuramente. Oh, scusate ragazzi. Ho spaventato il microfono. Allora, sapere per noi. Spera che ci sono persone dall'altra. C'è Tizan. Sono io che giocare adesso, ragazzi. Especialmente per Tizan. Che ci guardano e si divertono con la nostra passione. Eva ci fa continuare. Nel intento di formare una community. Parla, Jay. Oh my god, I'm sorry as an egote, but I have to escape it. I'll be back to try to splatter. No, it's not working. Ok, 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 ok. That was a bad try. That's sick. A really bad try, guys. And I'll use my bad luck of having being splattered to paint a little bit here. Ok. You know, I'm more of a painter than a killer. More of a defender than an attacker. But if I have to, I also attack you. Let's try to go as far as possible. Well, wow. And there, everything is blue again. I'm blue, dabba di, dabba di, dabba di, dabba di, dabba di, dabba di. Oh my god, I was not possible. I'm blue, dabba di, dabba di, dabba di. Ah, he has the sweeper duplo. It's like the sniper of the long shotgun. How are they called? What is it? I don't know. Oh my god, I don't want the ball here. Oh my god, I want to escape. Ok, 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 I lost the visual. I'm nervous, guys. ma dieci persone ci sono ma chi sono queste dieci persone no 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 loli questo lo facciamo solo con lo nostro grande DC DC? cosa vuol dire DC? non lo so, vuol dire una brevezione di doc? doc? no, questo è doc? doc? come dice Tsan? DC? ci siamo un po' ignorante con grazie con abbreviazioni e' riunica torno di nuovo oh DC non sconificato? ok 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 non ecco! no! no! noo! nooo! nooo! bia! bia! come mi ha dato un flash ho visto lo prima qui nel chat e ho fatto la stessa domanda No, 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 no... No, 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 no... That was my nose, guys. Sorry, it's my nose. This is Jess. It's okay, I wasn't aware of the microphone. I have to go and sneeze my nose, really. Oh, my ears open. I can hear it again. Oh, Loli. Pues deberían agregarle los idiomas que hablan el japo con el traductor. Como broma, sería divertido, tío. ¿Sabes? Oli, diga en Google. No lo creo. ¿Cosa? Sí, Loli, era mi nariz. ¿Sabes? Me he tapado un... Me he tapado un lado y así para poder respirar, pero bueno. In a few minutes, I'm going. Oh, KG's on. ¿Se va? Creo que sí, en un par de minutos. Oh. At least you could... You have been able to play... Oh, oh, Black, Black, Black! Black, stop, stop, stop. Sí, sí, creíatelo. Ostra. Cioccolate. Cioccolate. Los chocladi, ¿no? No. El chocolate, el chocladi. El chocladi. Creo que sí. ¿Chocladi? Are you chocolate? Today, is it match? Cosa ha fatto? Stupida proprio. Stupida. Stupida? Sei una stupida idiota. Ovvio Dio. Non ho parlato, va bene. Non ho parlato, non ho parlato. Un nuovo disconnetti. Oh, i navi. I navi. I navi. Credo che sia tu. Hai scuola di cioccolati? A te? Chissà se ho detto. Chi? Ok, sei in cioccolato. Chi? In japanese. Ma si, che bello. Sakurai. No, perché prima... Stava fuori. Saku? Saku, c'è un messaggio... ...in la chat... ...over... ...le read it, solo per te. Io credo che si vedo qualcosa di japonese. Ah, chocolatette. In spanish, chocolate... ...is chocolate. Wow! Wow! In... ...does chocolate in your language also mean this? Yehoo! Is this black? When you see a jet... ...it's black. Jet black! We change the name, guys. We're voting for a... How can we call it? Rename. Rename. To recall it... Jet black. And this... ...has also to be renamed after... ...pallacrichese. Wow! I'm learning Spanish in school, really. Oh, perfecto! Cool! Use our streams to... ...to practice a bit. Yeah. We talk a lot of Spanish, mainly Spanish and Italian also. Yay! Yay! Eugenito! 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 Do you speak English? Madre mia, Loli! Incorregible! Eugenito! 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 And how is that you... ...that you choose Spanish? And not German? I have to ask you because you know I'm German. I think for your language it would have been much easier to learn German than Spanish. Who is Eugenito! Sorry, I don't understand. Okay. Okay, okay, no say yeah. Loli confirmado, eh? It's still a mysterious name for us. Black... Lui... Barra lei... Barra lei... E... E uno... ...molto, molto forte... ...che non parla mai in chat. Però... ...sappiamo... ...per il gioco... ...per il gioco... ...per tutto... ...per il gioco... Okay, I want to pass... No, it was not possible. E... I'm closing here. I'm closing here. In the... In the corner... ... ...sì, bueno... ...pero no pasa nada que no lo sea. Es más, siempre será un misterio... ...y cuando lo solucionemos será aún más guapo. Os acordáis del misterio de Juli Tendo, chicos? Lo solucionó... ...al final se solucionó... ...bueno, se solucionó... ...fue adelante al misterio. Habló... ...podemos decir que lo conocemos. ...se... ...ya, ya, ya! Wow! No, no, no. No. Se hai un corridoio stretto... ...hai una persona avanti... ...non lanci il cane. Perché se hai un corridoio stretto... ...hai una persona avanti... ...hai un pennello. Sei lui che si spaventa. Se lanci il cane... ...hai finito l'inghiostro. Se hai finito l'inghiostro... ...non puoi pretendere... ...andar a cercare anche l'altro... ...dall'altra parte. Ok, no, no, no. I'll make a jump. Eh? I'll make a super jump. In esta live... ...no se tiene que decir... ...eh chicos, acordáis de... ...subscribirse al canal. Porque somos... ...que estamos haciendo la live... ...sólo para nosotros. Si. ...sólo para nosotros. No problema. Ma... ...scusa, eh. Ma questa è la mia base? Oh. No. Ok. No, ma stavo tornando indietro. No. 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 I just want the it look at with Splatoon 2. Jay Kumar evolucionate. No. Can youочь? Is it poo? Nan? It works. ivo den e pato operating. No. Pato pathlon. pato perro cyber tronico in inglese is the duck dog 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 in this in this sense io stavo pensando no che vedete che devo andare 50 minuti 50 minuti perché volevo fare il video di sparco no può essere ma non è che devo alzarlo in 50 minuti qualcosa mero a mezz'ora e facciamo 20 minuti mezz'ora tra mezz'ora devi vestirti questo dico no se devi prepararti wow ti sanno that was good di nada questo non lo entiende cosa you're welcome il traduttore solo funziona scritto wow no space ho letto la s non so dire in inglese cosa facciamo non so dire in spagnolo facciamo ehm chicos ora lo che facciamo è che facciamo a cerrar il stream perché vogliamo preparare un video per voi sobre un juego che ha salito il 15 credo ayer un pove pequenito che si è il io ayer che e vai a saber come si chiama nel video che colguiamo Asi che molto grazie per queste corte partite Aspetta, se vuoi fare l'ultimo? Sì, facciamo l'ultimo? Sì, vale Allora Siamo fare il nostro ultimo match See ya Tizan Grazie per aver giocato Grazie Tizan per aver giocato con noi Oh mio Dio, ho even riuscito la mia mano Mi piace dire bye Sì Siamo iniziata Allora, io vorrei sapere se tu usi Sì, ho capito Siamo fare l'ultimo match Sì, esattamente Chocolatis, mi piace stress Mi piace gut, Chocolatis Und ti? Sì Sì, c'è qualcosa di dire Cosa, un giusto Sì, che di ma manca Basta Queste due lingue Siamo stoppiamo il match Dopo questo match perché vogliamo registrare un video su un nuovo gioco che fu fuori l'ultimo Ok, so So Find out what it is about Octager In il video No Noi Facciamo Ancora Un match E dopo andiamo A registrare la recensione So I'll try a different way Di un gioco uscito ieri Sì Allora, try to pick everything Sparkle Sparkle Three Oh, that was not possible Cioccolate Oh, there's another one Oh, we're splattered My friend chose German and when he plays he says Dankeschön 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 Oh, my God Succolate I'm playing a really bad match, guys Yeah, this is the last match You cannot play good match Oh, my God Where is he coming from? Ciao, Tisane Tisane We go to Discord And we Try to make a video Or reaction Of One reaction Of Sparkle Three So If you wanna Talk with us In Discord Later No problem Oh, ha funzionato il cagnolino C'è tipo Oh, one escape From the No, one escape Ok, here Everything is yellow Orange Come si dice Buon appetito Have a nice meal Enjoy your meal Enjoy your meal Enjoy your meal Tisane Ha sancito adesso Yeah, Chocolatis Ah, no, black It was black I can see my team True, it's true No, it's true Too late, too late Ok, it's good It's good Oh, I didn't make it To throw the last Duck Duck Dog So I even made it to Ok, it was Easy In this case Well, we'll get it to We'll get it to So So Oh, with the last perk Yay Only one Wow Well, it's good Well, it's good Well, it's good So Guys Right now We close the stream Because we go to Make a video Of Sparkle 3 So Maybe 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 You can Talk with us In Discord Server And Nothing See you soon See you soon Thanks for playing In the afternoon I think I do one One stream Alone No, uso El código Creo que es Discord Pecado No, Loli Llegas tarde Glorita Vamos a hacer un video Ahora Next stream Is in the afternoon In the afternoon We stream again Eh, eh, eh Eh, bene, dai Un abbraccio Forte, forte E ci vediamo Nel prossimo Stream Ti vogliamo Bene E grazie Per Il Tuo Supporto E ricordate Nuestro moto Non ci riesce Con le mani Allora Tente con i tentacoli Grazie 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 Loli Grazie 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 Nos vemos En el stream De mas tarde Claro Igual Loli Estara Dormiendo Vale Un segundo Un segundo Que pongo El ultimo Mensaje A nuestro Amigo Japan I send I send The last Message To Our Friend Japanese Friend Yeah I Yasta And That's it Bene Bye Bye People Bye 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 Bye